L'oggetto che stai ascoltando e osservando è ORGONIC, amplificatore audio valvolare di design. Le linee moderne, non tocco volutamente retro, rendono ORGONIC un vero oggetto di punto per estimatori. L'utilizzo di tubi termoionici lo pongono ai vertici della qualità di ascolto del suono a classe A. ORGONIC è progettato per l'ascolto di sorgenti sonore digitali, streaming web ad alta qualità tramite la condizione bluetooth dei dispositivi digitali, quali tablet e lo smartphone, ma nello stesso tempo offre per i grandi appassionati del vinile la possibilità di connessione al giga dischi tramite l'utilizzo di un preamplificatore anch'esso valvolare. semplice l'utilizzo, il preamplificatore valvolare dà la possibilità di regolare manualmente i toni alti e bassi, in puro stile vintage. semplice l'utilizzo, il preamplificatore valvolare. buon ascolto a tutti.